La Giunta regionale della Calabria ha approvato il piano per l'occupazione 2023-2027 proposto dal Presidente Roberto Chiuto e dall'assessore Giovanni Calabrese nell'ambito del programma regionale Calabria FSR FSE Plus 2021-2027 con un budget di 183 milioni di euro. Il piano punta a incrementare l'occupazione di giovani e donne e rilanciare l'economia di tutta la regione. E' stata definita anche la metodologia per i Recruiting Days e l'espansione dell'occupazione nelle imprese locali. E' stato istituito il Fondo Imprese Donne e Giovani FIDEG con 9 milioni di euro gestito da Fincalabria e ARPAL per sostenere ovviamente imprese e formazione. La Giunta ha confermato Michele Angelo Iannone come commissario dell'ARPACAL e ha autorizzato la firma del contratto integrativo decentrato aziendale per il personale regionale. Ha approvato anche il piano speciale per la legalità anti-racket e anti-usura per il 2024. Tutto questo per contrastrare la criminalità organizzata. L'assessore Caterina Capponi ha posticipato al 2025 l'uso dei fondi per l'inclusione delle persone con disabilità e ha commissariato l'ambito territoriale di Amantea per inadempienze normative. Sono state inoltre approvate le linee di indirizzo per il recupero dei beni culturali e Fincalabria e stata individuata come organismo intermedio. Gianluca Gallo, assessore all'agricoltura e ai trasporti, ha aggiornato il piano per l'acquisto di 10 nuovi treni e definito i criteri per la promozione del settore agroelementare. Infine, Sergio De Felice è stato nominato commissario liquidatore dell'Agenzia Forestale Regionale. Grazie a tutti.